bella ragazzi comincio col dirvi che a fianco alla foto profilo del canale ho lasciato il mio id id epic in modo da poter far richiedere velocemente l'amicizia alle persone che mi seguono soltanto per il fatto che ogni tanto magari mi trovo a regalare della roba e se non avete la mia amicizia ovviamente 2 fa prescindere attivo se non avete la mia amicizia dovreste aspettare due due giorni per ricevere il regalo quindi ragazzi se volete partecipare ai futuri che ai futuri ghi quando saranno vi consiglio di richiedere l'amicizia in modo che quando dovrò mandare il regalo a chi a chi lo dovrà ricevere potrò praticamente inviarglielo subito al momento senza aspettare i due giorni che sarebbe scomodo per voi e scomodo per me detto questo vi ho linkato il mio gruppo telegram sul sull'info del canale sulla descrizione dell'info del canale se avete piacere di di entrare sul gruppo telegram ho deciso di farlo anche perché ultimamente sopportando anche salva al mondo e se avete bisogno di elucidazioni bella ragazza emissione elimina versari con armi comuni missione suddivisa in tre fasi anche questa ci dice la missione di eliminare con un'arma comune successivamente nella seconda fase eliminare con un'arma rara e successivamente elimini fare l'animazione con un'arma epica anche se a me sembra strano francamente che si passi da arma comune a arma rara potrebbe anche essere magari che passano d'arma comune a non comune perché mi sembra strano che passano dalla bianca alla blu così però potrebbe anche essere così speriamo non cambi nel dubbio aspettate aspettatevi anche che la prima fase diventi ad arma non comune e non arma comune quindi ovvero arma verde non arma bianca detto ciò la missione consiste nel fare l'eliminazione con un'arma comune una volta fatto ciò la prima fase è passata passiamo alla seconda fase la seconda fase consiste nel fare l'eliminazione con un'arma rara quindi un'arma blu e anche la seconda fase è passata dopo di che ci chiede di nella terza fase ci chiede di fare un'eliminazione con un'arma epica quindi un'arma viola è così che abbiamo completato la missione ragazzi missione abbastanza semplice non è di così complicato si potrebbe fare anche in una partita ovviamente non è risa squadre perché risa squadre si parte da armi blu quindi gli armi comuni non le troviamo ragazzi come sempre spero che il video vi sia stato utile bella